Ancora un giorno a zero decessi correlati al coronavirus nelle Marche dove i ricoverati scendono a 6, 2 nell'ospedale di Fermo, 4 in quello di Macerata, tutti in reparti non intensivi. Ci sono poi 7 persone ospitate in strutture territoriali. I dimessi guariti sono 5.575, i positivi in isolamento domiciliare sono 221, ci sono poi 472 persone, tra cui 20 operatori sanitari, in quarantena per contatti con contagiati. Intanto è stato predisposto un piano nazionale di test diagnostici molecolari che consentirà alle regioni italiane di realizzare una campagna di indagine sulla diffusione dell'epidemia, un'operazione tanto più importante in vista dell'autunno e dell'ipotesi di una possibile recrudescenza dei casi di infezione. La strumentazione, che sarà messa a disposizione nelle prossime settimane dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, è un passo avanti per assicurare anche nelle Marche la ripartenza in sicurezza delle attività sociali e lavorative per rafforzare ulteriormente gli interventi già messi in campo dalla Regione e dalle aziende sanitarie. La fornitura per la Regione Marche consiste in 249.440 kit molecolari che consentiranno di effettuare entro dicembre 221.940 tamponi in più rispetto a quelli già previsti in Regione.